Questo è il giorno della mia morte Questo è il giorno della sua morte Perché oggi andiamo a fare la seconda parte Non so chi si ricorda Il video di Prova a non vomitare Perché non se lo ricordasse Ecco qui un bravere ass Rollo No, no, no No, vabbè! Aspetta No No Noo Noo Ahahah Ce la vai, continuiamo Ahahahah Oh Ditto Leva 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 Quale? No no dai No 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 No, per serio no L'hai vista cazzo di musica Oddio guarda la masca piena No dai Adesso andiamo a fare la seconda parte Con dei video Che ci avete consigliato anche sotto a quell'altro video Ovvero uno tra tutti Che è quando c'hai l'ansia Che dici Oddio no non voglio fare sta cosa Oddio mi sta bene l'ansia Andiamo a vedere dei video schifosi Che fanno rigetto Per esempio abbiamo visto Vedremo gente che si taglierà le membra Non lo dire E tutto quanto E ci avete consigliato in molti Quindi vedremo Pain Olympics Per primo Poi vedremo altri video Presi da un sito Che tratta tutte queste tematiche Ragazzi come sempre Come sempre Il video precedente Vi diciamo Che se siete minorenni O facilmente impressionabili Non guardate Non andate a cercare i video Che noi guarderemo Ma no mi spieghi Perché cazzo io devo guardarli Se sono facilmente impressionabile Scusa Non è giusta sta cosa È divertente che tu Ma io so Noi non faremo vedere i video Che vediamo qui Quindi state tranquilli Non li vedrete Vedrete soltanto le nostre reazioni Perciò Noi cominciamo E godetevi la scena Ma che godetevi Ma che godetevi la scena Non fa un culo No 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 Già ho visto una cosa Troppo brutto Guarda dai Aspetta Oddio Dai è come quando S'affetta il salame Stai zitto Pratico Qua si stanno tagliando Le membra Cioè vedete presente Il salame che si affetta Anzi no questo Lo sta sfilettando Perché è fettando Cama tosco Dai è cambiato Guarda Paffanculo David Adesso si vede Adesso è arrivato al buco Guarda Guarda la pelle come se ne va Adesso la grattugia Guarda che la grattugia Dai devi guardare Oddio no no Questi sono matti Questi sono matti Guarda la grattugia No mi sto a sentire male Oddio guarda Sei smembrato No David Questo è un pisciato Devi stare zitto Questo è un pisciato Lo dico Questo è un pisciato Seduto La prossima volta Ma porco dici Ma stai scherzando Guarda questo No non voglio guardare No no vabbè Ma che sei scemo Ma che spesso stai infilato No stai zitto Lo so che stai infilato Non l'ho capito Io guardo Oddio L'ha trafitto proprio No no Si è trafitto la pipera Ma il serpente Oddio guarda Guarda la pelle sotto Guarda la pelle sotto Pare che io stelle tagliate a metà Guarda Pensa che lui non potrà più pisciare L'acqua che bere Eccala Oddio questo che è i forbici Sack Oddio è partito tutto Io mi sto seriamente sentendo Il pongo No no vabbè No ma tu sei scemo No 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 Zack zack Devo una accorgiatina Peccato che non ho stato al barbiere Zack 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 Per favore cambi video Zack 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 Cambi video Zack Cambi video Zack Zack Cambi video Zack 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 Non dai manca ancora un po' Fai zitto Non mi interessa Manca questo qua Guarda questo qua col mattarello Ma è scemo che si mattarello Guarda guarda col mattarello Col punteruolo Oh se lo strappa Se l'è strappato Guarda questo No sta il zitto L'ho visto Mamma mia questo è un arpione Non hai capito che quello Un cazzo di amore Per pescare squali Vaffanculo Cioè ho pescato un pesce Ma non era uno squalo Cambi video per favore Ok dai l'ho levato Bugiardo Sento la musica Dai l'ho levato Hai messo il muto Testa di cazzo Pezzo di merda Che non è altro Brain fart No Barn victim No cazzo Cioè ho visto uno Autopsia Ma qual è autopsia Autopsia è andata Ma chi ti si incula Vai è andata con l'autopsia Dai L'uomo con la testa tagliata Dai Allora questa è un autopsia Di un uomo con la testa tagliata Ah però non è un video Questo è soltanto Non è l'immagine Mi piace la testa tagliata Ma che cazzo Gli hanno fatto Ah questi hanno fatto Un chioppo con una motocicletta Contro una macchina Cazzo quello è il costume mio Pfff È vero Che cazzo Quello è un braccio No è una gamba No è un cazzo di braccio È un braccio Sì Cioè c'è un corpo Da una parte Dieci metri dopo Quando fai un botto capita A volte ritrovano I piedi A due chilometri di distanza Ecco Vedi Qua sarebbe il braccio Sì Ma io spero Ma gli è uscito proprio l'intestino Guarda Cioè Gli è uscito l'intestino da qua Regà Cioè c'è questa parte di corpo Che non ci sta più proprio Cioè Quale cazzo di motivo Cioè una persona nuda Alla in mezzo È il treno che passa tranquillo Però siamo fermati a cadaveri Cioè questo qua è tagliato in due e in treno Praticamente c'è sta Guarda la testa Eh c'è sta la testa da una parte Dei rotaie E il corpo dall'altra parte Delle rotaie No è proprio un mezzo busto Dall'altra parte Delle rotaie C'è sta tipo la testa Che pare tipo Qua barella Qua barella Eh sì Qua barella Si sa che serve un sacco qua Ma io spero Che tu stia scherzando Che hai preso una cazzo Di barella Per trasportare due pezzi Di corpo divisi Ma ma guarda Questa qua Che tira su il corpo Come se fosse niente Che tira su le gambe Praticamente Ma il busto dov'è Eccolo Questo è il busto Vabbè Rimettiamo penolini No porco No No Ok E' durato pure troppo sto video E poi questa è impalata Come un cazzo di porco Potresti Potresti abbassarla Vediamo che è Meglio guarda Io ho perso dieci anni di vita Di vita Allora ragazzi Vediamo che questo video Vi sia piaciuto A me no Quindi non lo vedrete mai più Non lo posso giurare Su mio nonno Voi sicuramente Vi siete divertiti Tanto Eh ma Vi posso giurare Su mio nonno Che questo video Non avrà una terza parte Se noi arriviamo No no 20.000 like Ci sarà una terza parte No lo fai da solo No con 20.000 like Non mi dico No te arrivi a 30.000 minimo Io non mi dico Io ve lo dico Se è arrivato a 30.000 è meglio Ma se è arrivato a 20.000 Lo obbligo io a farle A fare una terza parte Io non hai capito che spadre Non lo so di Non lo so di Lasciamo Zitto Lasciamo i like E ci sarà una terza parte Ve lo garantisco io Però dovete arrivare a 20.000 E ci la metterò tutta Per fargli fare un'altra parte Si è grattugiato il cazzo E consigliateci qua sotto Che video guardare La prossima volta No Bella Ciao 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 Ciao